Ciao a tutti! Oggi la Greta smonterà e rimonterà la bicicletta, smontare le ruote, movimento centrale e serie sterzo. Ingrassiamo e rimontiamo tutti. Quindi un buon video, mettete mi piace, iscriviti al canale e soprattutto mettete mi piace per lei. Intanto vi fa vedere un po' di chiappa. Ciao a te. 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 Grazie a tutti